Ehi, 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 come stavano? È finita. Ehi, io ho contato a te. Un'altra? C'ho di nuovo? No. Ehi, io ho contato a te. Quanti anni ci vuole o no per raggiungere l'enforia delle piccole cose che non hai ancora? Perché qualche volta in questi giardini, oltre ogni confine, ha chiesto dare un'esistenza di un'idea. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora. Ehi, io ho contato. Andiamo? Ehi, io ho contato. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora. E se pensi felice, forse non ci fai tensione. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora. E se pensi felice, andi sola ad immaginare le piccole cose che non hai ancora.